Oh! Tornado! Star Wars! Siamo vicini, eh? Perché è negretto con la maglietta dei morti. Aspettiamo un caricamento. Ok. Prima, poi mo' video con la video con la webcam. Aspettiamo, primo video con la webcam. Dammi dietro. Oh, ci vuole non prendere il cibo. Però se si mettono dietro... Non sparare al civile! Non so di sopperti. Sì! Ma vedi, non so? Sì, sì. Che abbiamo messo? Certo. Vabbè, è troppo difficile. Vedi, trascaffalo. Aspetta. No, non lo voglio! E' che hanno 10 minuti. Bastardo, quel fucile a pompa! Sì! Sembarairo. Quattro d'a simulations. Dai 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 Perché arrivano i maun Fa un culo Ecco mi sta ammazzando Sto stronzo qua Senti mettiamo facile Non diamo facile perché cani non ci piace Volevamo fare due bull Volevamo fare due bulli Volevamo fare due bulli Volevamo fare due bulli Non tagliamo niente Fa i minuti due minuti siamo esistiti Benissimo la nostra esistenza La nostra esistenza La nostra esistenza Da papà Oggi non ci sono i pop No 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 Come vedete sono le due di mattina Sono le Le due del pomeriggio Vieni qua Non mi prendo il cuore Questo faccio due Pronti Mi andava avanti Ma anche io però sto in mezzo Che ne ha occupato mezzo Che ne ha occupato mezzo mario se vai da solo tu mi dici stammi dietro poi te ne mangiati da qui eh stammi dietro non mi stai dietro allora continuo io lo devo proteggere cazzo c'entrano le psp ma fanculo ti sembra non so che sfiga però è una mamma che scassa 43 secondi siamo resistiti no penso che è buona come si fa a capire una cpa 46 e vabbè mi chiamiamo ma te li accupi cazzo mi hai salvato il culo questo video capirebbe un cazzo vi ripeto è il primo con la webcam ma va con culo mi hai scurato la casa ma chiama dove cazzo sei in fondo aiuto aiuto ah qui cazzo culo puro 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 che ci baci Aspetta un attimo Fai una volta buona No bastardo dov'è che era Qua sto stronzo Ammazzo la madre stronzo Schifoso cane Oh c'ho le porte No bastardo schifoso Dove dio buono sei Sono dietro di te Ma no non mi servi Ma questo qui non ci vinde Dai che stiamo per vincere ragazzi Fate tipo per noi Mia Ah lui ha vinto Dai vi salutiamo 8 minuti di video Vabbè Con questa vittoria Stella d'oro Vi salutiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 Grazie.